Esordisce negli anni Sessanta interpretando alcuni episodi di Carrosello. Fra gli anni Sessanta e gli anni Settanta partecipa come attore a una ventina di lungometraggi di genere. Italiani, Splendori e Miserie di Madame Royale. 1970, regia di Vittorio Caprioli, Il profumo della signora in nero. 1974, regia di Francesco Barilli. Negli anni Ottanta partecipa a due film interpretati dall'attore americano Fred Williamson, che firma anche la regia, in realtà del produttore Pierluigi Ciriaci. E poi si dedica alla regia della seconda unità di alcuni action di produzione italiana. Delta Force Commando, 1987, diretti da Ciriaci con lo pseudonimo di Frank Valenti. Nel 1997 esordisce alla regia Connotti di paura. Un film di spionaggio di produzione italo-russa.